ciao ragazzi ben ritrovati a tutti come state? io spero tutto bene quello di oggi sarà un video chiacchiericcio ma accompagnato da trigger ovviamente che ci terranno compagnia per tutta la durata del video bene questo è un video si ASMR però un video un po' diverso dagli altri perché volevo condividere con voi l'esperienza bellissima che ho appena vissuto a Napoli qualche giorno fa nella giornata del 28-29-30 sono stata tre giorni lì e l'esperienza di un giorno quella del 28 novembre era legata come alcuni di voi sapranno che mi seguono anche sull'altra piattaforma tiktok era legata proprio all'esperienza di tiktok live c'è stato un evento importantissimo dedicato ad alcuni content creator italiani e non che però risiedono in Italia che sulla piattaforma su tiktok riscuotono mediamente e maggiormente successo e io ho ricevuto l'invito da parte di tiktok Italia a partecipare a questo evento vedrò se vi posso mettere qualche foto nel video per farvi vedere ragazzi un po' l'emozione quello che ho visto quando ho ricevuto la telefonata da parte della mia manager di tiktok che mi chiedeva se volessi dare contributo partecipando a questo evento per me è stata un'emozione indescrivibile la telefonata la epi ad ottobre e lì per lì fui presa da un forte panico nel senso positivo perché io non mi sono mai mossa da qui per andare fuori a esporre qualcosa a parlare di qualcosa che riguardasse in qualche modo ho fatto il mio lavoro in questo caso di content creator su tiktok quindi è stata un'emozione forte ho detto ci voglio pensare almeno qualche giorno però poi ho accettato anche perché l'evento si teneva a Napoli è una città che io amo e ci sono stata solo qualche volta di passaggio e da premettere che non sono riuscita a vedere Napoli come si deve perché sono stata lì solo due giorni e mezzo scarsi tre perché poi la sera del terzo giorno sono ripartita però ragazzi quel poco che ho visto che siamo riusciti a vedere perché sono partita insieme a mio marito insieme a Claudio mi ha lasciato una profonda emozione nel cuore ma questo ve lo dico dopo quando ho deciso di partecipare all'evento ero tanto emozionata perché appunto è la prima volta per me un evento pubblico che in realtà era a porte chiuse perché era una specie di congresso e si è fatto in un albergo bellissimo in un hotel bellissimo credo sia a Portolostelle è l'hotel ambassador panorama di Napoli l'NH quando sono arrivata lì un posto bellissimo meraviglia delle meraviglie e un hotel ragazzi alcuni di voi se sono del posto se sono napoletani lo sanno se ci sono stati lo sanno già viene definito quell'albergo quell'hotel un grattacielo perché è l'albergo l'hotel più alto che c'è a Napoli e tu hai realmente la vista su Napoli e la nostra stanza era al ventottesimo piano il giorno il giorno era 28 novembre e la camera era la 2828 ossia 2828 quindi pensate che combo di 28 quattro volte 28 io che sono fissata quei numeri per me non è roba da poco e quindi l'albergo è di 30 piani noi eravamo al ventottesimo piano quindi eravamo altissimi ma anche ai piani inferiori la vista era sublime chiaramente però più alto stai meglio e no e quindi vedevamo questo bellissimo panorama il mare sulla sinistra le navi da cruciera con il castello mi pare un gioino non vorrei sbagliare scusatemi se sbaglio e poi tutta Napoli e si vedeva la parte noi eravamo nella parte bassa si vedeva dalla mia vetrata proprio la parte alta di Napoli che ora non mi viene in mente come si chiama comunque un panorama stupendo arrivata lì ragazzi il congresso tra tiktoker era già iniziato c'erano i manager tutte persone importantissime che stanno dietro ai content creator io ho avuto il piacere di conoscere la mia manager che si chiama Laura che tra l'altro saluto con un affettuosissimo bacio ciao Laura non so se vedrai questo video appena sono arrivata appena sono arrivata lì sono arrivata leggermente in ritardo perchè la strada Taranto Napoli vista quattro ore quindi tra le soste e tutto finchè entri Napoli insomma quelle quattro cinque ore se ne vanno sono arrivata leggermente in ritardo ma loro già sapevano sarei arrivata in ritardo perchè avevo avvisato e una volta arrivata lì ho fatto la conoscenza di tutti gli altri miei colleghi di ASMR artist content creator su tiktok ce ne eravamo solo due io ed un'altra ragazza con cui ho fatto subito amicizia si è instaurato un bel rapporto lì siamo stati tutta la giornata insieme a pranzo che a cena e devo dire che prometto una ragazza molto molto per bene poi ho conosciuto altri colleghi che tiktoker che però non fanno ASMR hanno creano realizzano altri tipi di contenuto prendo un po' la mascherina e si è parlato di di quelle che sono state le nostre esperienze su tiktok soprattutto live su come siamo riusciti a fidelizzare un determinato tipo di pubblico tanto pubblico nel mio caso su come mantenere costanti i rapporti con chi ti vuole bene chi ti supporta tutti i giorni chi viene sempre nelle tue live chi ti sostiene che sempre partecipa alle tue live si è parlato di tutta una serie di cose di quanto sia importante rispettare e leggere puntualmente le linee guida della community di tiktok per non incorrere nei ban queste cose qui e poi abbiamo creato anche tre nuove campagne che partirono a natale dedicate alle nostre tre manager mi pare Laura Eva e Greta mi pare siano le ragazze ma non è sicura che si chiama Laura perché segue me è stato un incontro piacevolissimo perché finalmente ho potuto conoscere dal vivo altre persone che come me si prodigano sulla piattaforma e lavorano ogni giorno per raggiungere risultati e cercare di ottenere il massimo da ciò che fanno io vi dico che non mi sarei mai aspettata di essere considerata nonostante il mezzo milione di followers su tiktok non mi sarei mai aspettata di essere considerata per un evento dove si è parlato un po' di varie cose tra l'altro importanti per un content creator di successo non mi sarei mai aspettata che venissi considerata perché comunque io sto sempre come già sapete nel mio e aver fatto questo tipo di esperienza in qualche modo mi ha fatto crescere è stata un'esperienza breve della durata di un giorno ma molto intensa perché siamo stati insieme dalla mattina dalla mattinata fino alla sera cena pranzo e cena compresi ho fatto subito amicizia con le persone che erano lì c'è stato subito uno scambio di gentilezze di armonia di senso di partecipazione alle attività che abbiamo fatto e poi sul finale ci siamo messi anche a fare foto in questo video con non mi ricordo come si chiama il pannello e il pannello non so se ha un nome specifico comunque il pannello di tiktok live abbiamo fatto tante foto ci hanno fatto tante foto ed eravamo disposti a staffa di cavallo e ci hanno fatto un mare di foto poi c'era il pranzo la cena che erano a buffet claudia è stato con me e si è goduto praticamente la giornata però durante il convegno a chi non era tiktoker non era consentito entrare perché era appunto un invito quello che avevamo ricevuto quindi potevi portare con te un accompagnatore o un accompagnatrice però poteva star con te soltanto a pranzo e a cena poi durante il convegno quello no e lui è stato con me a pranzo e cena e ha sentito sulla pelle in qualche modo il mio mondo perché voi come sapete mio marito non è un tiktoker non sta sui social in maniera attiva segue tutto come tanta altra gente da spettatore anch'io sono una spettatrice vero sono anche una content creator e si è visto proprio buttato lì nel senso positivo della cosa immerso in questo mondo che è quello di tiktok e mi ha detto che anche lui ha fatto una fantastica esperienza e ha conosciuto appunto i miei colleghi è piaciuto un sacco anche a lui devo dire lui quando siamo partiti quando siamo partiti da tanto era più entusiasta di me cioè io ero felice a lui a pompa proprio perché lui vuole dare sfogo alla mia crescita mi sprona sempre non vuole che io rimanga ferma ecco e come ho sempre detto e dirò lui è stato sin da sempre il mio fan numero uno poi dopo questa bellissima esperienza che abbiamo fatto foto tra di noi video che abbiamo anche postato su tiktok e cose importanti che abbiamo imparato ma soprattutto abbiamo approfondito cose che già sapevamo dopo cena siamo andati poi tutti insieme al bar vicino all'hotel e abbiamo preso qualcosa da bere il giorno dopo nonostante il tempo non fosse dei migliori perché era un po' nuvoloso e un po' era un po' nuvoloso e un po' pioveva un po' c'era il sole siamo riusciti comunque ad andare a vedere il castello bellissimo siamo andati al bar botanico un bar bellissimo dove c'è anche un museo però non ci sono entrata e c'è la scalinata prima dell'ingresso al museo dove su quasi ogni gradino c'è la scritta amore ragazzi bellissimo questo bar botanico è appunto dedicato alle piante e si respira un'aria di tranquillità pazzesca la colazione buonissima io volevo mangiare più di un cornetto però poi mi sono trattenuta perché a napoli ragazzi è tutto buono cioè qualsiasi cosa tu assaggi vuoi fare il bis e devi stare attenta perché effettivamente il rischio di fare il bis è facile perché è tutto buono e poi c'era questo allestimento già di luci colorate tra le piante sui tavoli veramente un bar che io in vita mia non l'ho mai visto era bello delizioso da vedere una colazione tranquilla che l'abbiamo fatto poi ce ne siamo andati verso la galleria Umberto I ora le vie non me le ricordo bene però c'era un piano ragazzi tutto pieno di negozi la stradina dei presepi che quella via non me la ricordo la stradina dei presepi ragazzi dove comunque ci sono i bottegai gli artigiani che fanno vedere tutto quello che loro fanno quello che loro vendono ragazzi è qualcosa di bellissimo però purtroppo era momento di chiusura per noi per loro quando siamo arrivati noi quindi non è che siamo riusciti a vedere quello che c'era da vedere però si vedevano questi presepi illuminati questa via dove respiri proprio il profumo dell'artigiano insomma bello bello la galleria la galleria umberto primo ragazzi mi è piaciuta tantissimo anche i negozi sono belli che si trovano lì poi siamo andati un po' verso il centro e a pranzo abbiamo fatto sosta un giorno in una trattoria la vecchia capri mi pare si chiami buonissima era una trattoria dove si spendeva anche poco e la sera invece siamo andati a mangiare la pizza con un mio amico davide e insieme a claudio e siamo andati a mangiare la pizza da sorbillo veramente buona tra l'altro davide ci ha offerto la pizza grazie davide ti ringrazio e il giorno dopo invece a pranzo eravamo da la trattoria nei quartieri spagnoli a a a pignata credo si chiami così a pignata ragazzi come vi e ho mangiato anche la divinamente come vi stavo dicendo io non sono riuscita a vedere tutta Napoli non ho visto veramente un pezzettino perché Napoli è in mezzo milione e basta di abitanti però ragazzi mi sono innamorata del quartiere spagnolo bellissimo quelle vie ci sono gli ortofrutticoli la gente che vende i prodotti tipici della zona ogni giorno offerte la miglior qualità prezzo qualcosa di veramente bello ragazzi la gente ti da calore ti da affetto ti viene incontro io ho sentito amore da tutte le parti ragazzi è proprio vero che quando vai via da Napoli ti viene da piangere è vero posso confermare questo detto lì poi in un vigo in un vigo è posta la chiesetta della santarella più famosa di Napoli la santa la suora divenuta santa 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 maria francesca la santa delle famiglie della nascita la protettrice delle mamme delle donne sterili siamo entrati in quella chiesetta ragazzi ho respirato una sensazione bellissima sono andata a vedere anche la casa sopra apposta in questa piccola chiesetta dove abitava lei la santa santa maria francesca e la sedia dove tante 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 persone soprattutto donne vanno a chiedere la grazia e poi c'era una stanza dedicata a a questi fiocchi di nascita per tutte le famiglie tutte le mamme che sono andate a ringraziare la santa per il miracolo ricevuto ragazzi io ho respirato lì delle emozioni fortissime a Napoli ovunque sono stata ho vissuto dei brevi momenti intensi e magici e ringrazio l'universo per avermi dato la possibilità di andare tra l'altro anche in questo periodo a Napoli che sia affollata però non come i periodi estivi no come sotto a Natale quindi con calma sono riuscita un po' a gustarmi la chiesetta la galleria i borghi antichi il quartiere spagnolo il centro insomma ragazzi sono stata veramente fortunata mi sento fortunata dato che mi trovo volevo ringraziare i napoletani che sono persone veramente di cuore ci hanno tenuti così diciamo dalle mie parti cioè sul palmo di una mano ci hanno fatto sentire i padroni di casa ci hanno fatto sentire parte di loro per loro non sei un normale turista per loro sei uno di casa quando sei da loro e un rispetto incredibile ragazzi mi sono sentita amata da tutti e non perché mi conosco che faccia semmai non c'è assolutamente niente perché non mi conosce nessuno parlo proprio della genuività spontaneità dei napoletani che hanno che forse solo loro hanno la benevolenza tutto siamo entrati anche in un casaificio per portarle poi con noi durante il viaggio delle mozzarella di bufala da portare ai nostri genitori alle nostre famiglie e la ragazza che lavora lì quando ha sentito che eravamo di Taranto e che eravamo in procinto per tornare a casa perché da lì a poco poi ci siamo andati abbiamo preso l'autostrada ci ha regalato per mangiare durante il tragitto se avevamo fame e questa cosa ragazzi sembra cosa da niente però a me ha commosso perché io riesco a cogliere ragazzi nelle piccole cose le grandi cose queste sono grandi cose nei piccoli gesti le grandi cose che ci sono dentro ci ha regalato una maschettina di ciliegine di bufala ha detto così se vi viene fame potete mangiare durante il tragitto e ce le ha proprio regalate ragazzi io credo che potrò girare tanti posti d'Italia magari in futuro se ne avrò l'opportunità alcune città le conosco già perché in passato quando ero più piccola mi è capitato di viaggiare più spesso con i miei genitori per il lavoro di mio padre ora sono più sedentaria anche per il lavoro che faccio ho visto città Modena per esempio ero piccolina ci sono stata a Modena vissuta a Padova ho visto Venezia quando ero piccola bellissime città però io di Napoli sono perdutamente innamorata e quando ne avrò la possibilità ci tornerò ogni volta che potrò volevo raccontarvi questa breve esperienza che mi ha permesso di fare tiktok a cui sono tanto grata e volevo condividerla con voi e ricordarvi sempre ragazzi che l'Italia è un posto bellissimo e dobbiamo andare sempre fieri della nostra Italia perché i posti che abbiamo qui a casa nostra sono posti invidiati in tutto il mondo io mi sono resa conto in particolar modo a Napoli un po' come Roma e tante altre città italiane perché non è la sola ovviamente Napoli che ovunque tu guardi c'è arte e cultura quindi anche laddove tu non capisca niente di cultura o di arte tu comunque sai di esserci dentro una volta lì e questo è pazzesco è pazzesco volevo ringraziare tutti i napoletani e e niente ragazzi niente spero che con questo video io vi abbia rilassati ho voluto condividere con voi appunto questa esperienza bellissima grazie di cuore per essere stati con me vi aspetto in live tutte le sere su tiktok e ogni lunedì e giovedì qui alle 20.30 con un uomo video ciao